Mettimi che non ti verrà mai in mente di fare il medico Ma non sei stata a cena con Angela? Senti Angela, sposati con Filippo Tanti auguri a te Il primario mi vuole dimettere e mandarmi all'istituto Angela, se ne andate tu ti sei corso dietro mollandomi sole E' qua a me chi ci pensa? Ce penso io, te do un sacco di botte Vedrai che non ti dimette più nessuno dall'ospedale Ma che razza di padre sei? Ti terrorizzi quei bambini Ma non capisci che qualsiasi tribunale te li può togliere? Il vostro papà non può trattarmi così Sei mia amica, non mandarlo alla polizia Io gli voglio bene Se va in prigione non lo vediamo più Ho bisogno di te Un uomo Un medico Un eroe di tutti i giorni Amico mio Questa sera, 20 e 40 Rai 2 Speciale Alfa Romeo 94 Sabato 15 e domenica 16 gennaio I concessionari Alfa Romeo vi invitano a scoprire le serie speciali 94 Alfa 33 e Sport Wagon Personalizzate personalmente Da Alfa Romeo Grande e bello Maxi Vasca è meglio Zoppas Maxi Vasca Arriva! Zoppas li fa e nessuno li distrugge Al mattino le stelle più dolci scendono a svegliare i bambini Sono stelle di glassa che si posano sul buon cacao e diventano pan di stelle Latte e pan di stelle La prima colazione italiana ricca di fantasia Santia ha l'abitacolo ad alta protezione Ma non approfittatene Tenete sempre le mani strette sul volante Citroën L'auto che ti pensa Io? Io vivo con il mio tempo Con il progresso, la performanza Per combattere le rughe ho scelto l'ultima creazione dei laboratori L'Oreal Activa Antiride di Plenitib Dopo 4 settimane di applicazione Test scientifici hanno dimostrato che Activa Antiride Agisce efficacemente sulle rughe, i segni del tempo E rende la pelle devigata Le mie rughe si attenuano La mia pelle è più liscia, compatta, risplendia di giovinezza E si vede Activa Antiride Plenitude L'Oreal Ritarda gli effetti dell'invecchiamento Papà, cosa fai? Una sorpresa alla mamma Cos'è? Filtrofiore Bonomelli La camomilla con i fiori dentro Papà, ci sono davvero? La vera camomilla filtrofiore E solo quella con i fiori in tazza E la scritta Bonomelli Nuova Escort Clima Motori Miles 16 valvole Airbag System di serie E oggi servostenzo e climatizzatore Inclusi nel prezzo Finalmente potete guidare La wagon che avete sempre sognato Canestro! Vuoi la rivincita? No, io faccio merenda Anch'io! Ci sono merende che hanno gusto E altre che ne hanno meno Kinder Delice Incontra il gusto di tutti Anche delle mamme Perché nutre con ingredienti semplici Ricchi di bontà Kinder Delice Tanto gusto in più Per una sana merenda Per la pubblicità Quanti secondi c'è? Un secondo, uno secondo, tre secondi Secondi sono importanti Come importante è il secondo disco dell'orchestra italiana Dopo Napoli punti a capo Napoli due punti e a capo In vendita nei peggiori Nei migliori negozi di disco Quando la pasta è buitoni Tiene sempre la cottura Buitoni La pasta viva Anche se è il più basso d'Europa Non si è mai detto Che il conte di Monte Cristo Deba pagare l'abbonamento Che sbaglieresti? Un vero nobile Deve saper rinunciare A privilegi A modo esempio M'ha convinto Salire sul conto corrente 3133 Tu che sei un nuovo abbonato Deve serai sul conto corrente 9100 E tutti e due Avremo un bel posto Prenotato in prima fila Un abbonato Ha sempre un posto in prima fila Sulle mie labbra La bella Dai vieni a baciarmi Come solo tu puoi far Proteggi queste mie labbra E amale come sa La bella Ogni giorno più protezione Con l'ipocerite Vivete soli Se all'improvviso state male Premete il vostro Tele salva la vita Sì Tele salva la vita Beghelli E' il nuovo sistema Che automaticamente Chiamo in aiuto 8 numeri di persone amiche Da voi selezionate Cercandole Cercandole Finchè qualcuno non risponde Messaggio registrato da Lucia Rossi Chiedo aiuto Mamma Eccomi mamma Tele salva la vita Beghelli Basta un dito Per avere una mano Informatemi all'167 011 072 Renucli o figi conservo sterzo di serie 15 milioni e 800 mila lire chiavi in mano L'isola felice Ci mancava anche il mal di testa Ehi Serve aiuto? Lasciati alle spalle il mal di testa E di dare l'uso prolungato E di dare l'uso prolungato può avere effetti colaterali Buon anno Buon anno Buon anno Alpitù Buon anno di vacanze per voi Alpitù Buon anno Alpitù Buon anno Buon anno Per chi parte e per chi resta Con un viaggio nella testa Buon anno Alpitù Buon anno di vacanze per voi Buon anno di vacanze per voi Così leggera Che puoi berne quanta ne vuoi Acqua San Bernardo Leggera lei Leggero tu Promettimi che non ti verrà mai in mente di fare il medico Ma non sei stata a cena con Angela? Senti Angela Sposati con Filippo Tanti auguri Il primario mi voleva dimettere e mandarmi all'istituto Angela se ne andate tutti si è corso dietro mollandomi solo E qui a me chi ci pensa? Ci penso io Te da un sacco di botte Vedrai che non ti dimette più nessuno dall'ospedale Ma che razza di padre sei? Li terrorizzi quei bambini Ma non capisci che qualsiasi tribunale te li può togliere? Il vostro papà non può trattarvi così Sei mia amica Non mandarlo alla polizia Io gli voglio bene Se va in prigione non lo vediamo più Ho bisogno di te Un uomo Un medico Un eroe di tutti i giorni Amico mio Questa sera 20 e 40 Rai 2 Pasta Boiello ti regala la salsiera La formaggera L'oliera Infine porcellana bianca Le condiere di Boiello La grande pasta di Napoli Perché Alpenlibe? Perché non c'è niente di meglio Le compro anche al supermercato E' buona e naturale Caramelle Alpenlibe Fatte con tanto buon latte E colate una ad una Alpenlibe Il successo della bontà Mal di gola? Antoral Una risposta ai problemi della bocca e della gola Mal di gola? Antoral E' un medicinale usare con cautela Dalla ricordati in farmacia Ci sono gesti Che fanno grande l'amicizia Oggi c'è un ringo in più Nutriente di crema al latte Ricoperto di cioccolato goloso Nuovo ringo cioccolate Buon anno Buon anno Alpitù Buon anno Di vacanze Per voi Alpitù Buon anno Alpitù Buon anno Buon anno Per chi parte Per chi resta Con un viaggio E la testa Buon anno Alpitù Buon anno Di vacanze Per voi Buon anno Alpitù Di vacanze Quelle due Una così timida E una così disinvolta Volevano fare una festa Dai Rosa Cuciniamo noi Ma non ho niente in cucina Ci sono le Emiliane Barilla Quelle sono buone anche con niente C'erano tutti ragazzi Anche quel bel tipo della barca a vela Cotte? Cotte? E' già buone così E' sfoglia Emiliana Però Le metterò nel mio menù Le Emiliane Barilla Più piacere quando vuoi Grande E' bello Maxi Vasca E' meglio Zoppas Maxi Vasca Arrivo Zoppas li fa E nessuno li distrugge